La canoa! Guarda, giovanotto! Guardi che il mio tutto in acqua era un modo di dire, era un modo di dire! Questo sì che è bravo, vedi, è addirittura in piedi! Un vero maestro! Un maestro di tuffi, direi! Questa signora approccia al mezzo con molta cautela. Ora, brava, vedi, vedi che se si fa con calma, se si fa con calma, il risultato non cambia! E ora spazio ai professionisti! Guardate, questi si lanciano verso le rapide! Oh, qui ci vuole coraggio, non è che tutti si possono lanciare così verso le rapide! Dai, dai, che ce la fate! Queste sono rapide, tant'è vero che questi vanno rapidamente a fondo! Capoccioni! Guarda, sights doubta, siamo capiti! Guarda! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciclo d'altri tempi, facciata attualissima, rivediamola. Ciclo d'altri tempi, facciata attualizzata. Fiume d'arrivo! Vai, vai come una bestia! Ecco! Sì, come un boccalone! Volete un salto brillante? Impossibile! I gioielli di famiglia se ne sono andati. Sì, come un boccalone! Sì, come un boccalone! Sì, come un boccalone!